Ciao a tutti ragazzi e bentornati, scusate se non sono tanto presentabile ma come vedete qui ci sono lavori in corso di un certo tipo infatti già sapete, molti di voi già lo sanno, stiamo ristrutturando completamente casa abbiamo praticamente tolto tutto quello che c'era e rifaremo tutto da zero e credetemi ragazzi, ristrutturare casa è una delle cose più, come posso dire, stressanti che esistano sulla faccia della terra penso esattamente come costruirsi una casa perché bisogna gestire 100 miliardi di cose contemporaneamente da chi deve ovviamente fare i lavori, l'idraulico, l'elettricista, coordinare ogni singola cosa, veramente follia però oggi vi vogliamo far vedere, ve lo racconterò io perché Fede adesso sta riposando, vi sia stata una giornata veramente intensa ciò che abbiamo deciso di realizzare a partire da questo, cioè dal nulla praticamente, solo dalle mura e niente di più quindi vi farò vedere anche alcuni render che ho creato io perché volevamo un po' visualizzare sebbene in virtuale è quello che sarebbe stata poi la nostra casa ma prima di questo, spazio allo sponsor se sei alla ricerca di una licenza per Windows 10 Pro che potrà poi essere convertita totalmente in maniera gratuita a Windows 11 oppure stai cercando una licenza per Office, così per i vostri lavori e spendere veramente poco UKIS fa sicuramente il caso vostro qualora doveste poi utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto risparmierete ben il 20% su tutti gli acquisti il sito è molto molto semplice da utilizzare, una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard andate a copiare il codice di riferimento, ad esempio quello di Windows 10 e poi procedete andando nel pannello di controllo, seguendo la procedura di attivazione di Windows incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto lo può fare veramente chiunque vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per il 20% di sconto tutti i link li trovate qui sotto in descrizione partiamo da qui, la stanza principale e chi ci segue da tempo può riconoscere quel muro lì quel muro infatti è stato lo sfondo per tantissimi nostri video perché qui in questa stanza per due anni abbiamo avuto il nostro studio e abbiamo realizzato ogni contenuto che praticamente avete visto e avevamo poi tutte le altre parti della casa quindi una cucina, un bagno e una camera tutto da un'altra parte ora con la volontà di crearci una stanza in più e avendo avuto la possibilità di spostare il nostro studio in quella che avete visto essere una ex cantina abbiamo deciso di costruirci la stanza che amiamo più di ogni altra cosa ovvero la cucina che sarà un po' cucina, un po' soggiorno una sorta di classico open space come si fa insomma da qualche anno come detto abbiamo scelto di farla qui perché questa è la stanza più grossa in assoluto abbiamo però abbattuto un muro qui dove c'è la telecamera adesso voi non lo vedete c'era un muro con la porta che in qualche video si è vista che andava a creare una sorta di corridoio per tutta la casa mentre ora abbiamo abbattuto quello quindi abbiamo un grandissimo stanzone che possiamo adibire finalmente a cucina barra soggiorno qui alle mie spalle la vedete qui c'era una finestra una finestra che era molto buia quindi dava veramente poca luce e visto che volevamo fare una cucina molto ampia abbiamo deciso di murare però piccola chicca la finestra c'è ancora in caso che magari chi lo sa un domani qualcuno volesse riutilizzare quella finestra ad ogni modo c'è abbastanza luce qui dentro per poter tranquillamente utilizzare solo una finestra e c'è anche la porta d'ingresso che ha dei vetri dai quali passa comunque della luce quindi tutto a posto come vedrete l'elettricista si è divertito a fare i suoi murales quindi ha creato un po' tutti gli spazi che l'arredatore e noi gli abbiamo chiesto di fare proprio per le prese di corrente per gli attacchi della luce insomma per tutto quello che può servire compreso il piano a induzione perché abbiamo deciso di eliminare completamente il gas da questa casa rimarrà soltanto per quanto riguarda il riscaldamento della parte della zona notte per il resto tutto elettrico perché qui abbiamo un condizionatore che ci permette di fare anche da pompa di calore durante l'inverno qualora dovesse servire però con la magia dell'editing e soprattutto del rendering quindi in 3d vi faccio vedere come dovrà risultare questa stanza più o meno ma penso che sarà abbastanza realistico come vedete una grandissima cucina ad L con tutto lo spazio necessario e finalmente ragazzi finalmente una lavastoviglie purtroppo non l'abbiamo avuta per tutti questi anni e la sogniamo proprio ardentemente avremo poi un bellissimo lavandino da 80 cm quindi bello spazioso e come detto prima un piano a induzione e infine delle belle colonne che ospiteranno il forno, il microonde e il frigo tra le due colonne poi uno spazio dedicato al mondo del caffè quindi una piccola nicchia dove ci saranno tutte queste piccole cose poi ci saranno sicuramente diversi accessori ma ve li faremo vedere quando poi sarà realizzato il tutto perché c'è qualche chicca in più come avete visto dal rendering poi ci sarà un bellissimo tavolo ovvero una penisola molto ampia quasi 2 metri per 90 quindi veramente molto grande e un divano che sarà posizionato praticamente qui dietro di me ad L che creerà il nostro soggiorno in pratica dove sono qui io quindi ci sarà il divano e quella parete lì ospiterà il televisore televisore che avevamo qui in studio lo ricicliamo perché è un bellissimo 55 pollici di Samsung quindi perché buttarlo andremo ad utilizzarlo su quella parete direi quindi di passare poi all'altra stanza anche se per ora c'è poco da dirvi però insomma ve la faccio vedere questa stanza ragazzi era l'ex cucina qua magari ci sarà un po' più di eco perché la stanza è piccola e ovviamente non c'è niente alle pareti come vedete sono state tolte tutte le piastrelle che prima coprivano le intere pareti e questa sarà una stanzetta in futuro se servirà o comunque speriamo di sì che però arrederemo quando sarà il momento quindi per ora sarà dipinta completamente di bianco avrà il pavimento che poi è lo stesso per tutta la casa l'avete visto nel render quindi un effetto rover, un grass molto bello che abbiamo fatto una fatica incredibile a trovare e per ora non ho tanto altro da dirvi perché comunque non abbiamo ancora progettato nulla di che è probabile che per il primo tempo lo utilizzeremo un po' come magazzino abbiamo sempre un sacco di cose vi porto nel bagnetto ah giusto per dirvi una cosa magari non ve ne frega niente però insomma ve la dico molto volentieri abbiamo recuperato questo armadio che invece è un armadio a parete che occupa tutti i 2,90 m dal terzo del soffitto che è veramente una manna dal cielo quindi lo terremo probabilmente lo dipingeremo di bianco un giorno ora vediamo ma è un salvavita perché ovviamente la stanza di là non è immensa avremo comunque sì un bel armadio in camera ma come sapete lo spazio non basta mai ora vi porto di qua questo è il bagno andiamo il bagno non è spaziosissimo come potete vedere però può ospitare tutto quello che serve alla fine ci sarà un water il bidet la doccia qui alle mie spalle abbiamo scelto di mettere una neanche troppo piccola un 80x120 che ora vedrete nel rendering sarà più o meno così ovviamente non abbiamo il modello esatto con la scelta anche di far sì che il tubo della doccia fosse incassato nel muro e non fosse visibile così insomma una scelta estetica che ci piace spero possa piacervi anche a voi magari vi fa venire un'idea per mettere a posto casa vostra un futuro chi lo sa da quest'altra parte invece dove c'è questo segno questa x sulla parete che sembra quasi un simbolo satanico ma che in realtà è semplicemente una traccia dell'elettricista andremo a mettere il nostro lavandino col mobiletto sottostante sospeso e uno specchio che ancora non abbiamo scelto però come vedete abbiamo fatto la traccia proprio per poter poi collegare eventualmente una luce o qualcosa del genere nel rendering avete visto un po' tutto quello che abbiamo pensato di metterci come detto non è spaziosissimo ma ha tutto quello che serve per potersi godere insomma delle belle docce e la classica pausa in bagno sapete cosa intendono e infine ragazzi eccoci questa sarà la nostra camera da letto lo era anche attualmente ma come detto abbiamo deciso di rifare praticamente tutto e quindi anche questa camera subirà un restyling completo per nostra fortuna qui avevamo un parquet quindi l'è stato tolto facilmente e anche il massetto dove c'era posato il tutto è perfetto quindi non bisogna modificarlo mentre dall'altra parte abbiamo dovuto togliere non solo le piastrelle ma anche tutto quello che c'è sottostante anche per far sì che poi idraulico e elettricista potessero lavorare comodamente facendo passare tubi e cavi direttamente sotto il pavimento così anche per rifare tutto l'impianto elettrico perché era un po' datato insomma e mi metto in questo angolo anche se non sono proprio a favore di luce per un motivo infatti voglio farvi vedere a rendering quello che ci sarà qui alle mie spalle ovvero un mobile completamente custom quindi realizzato apposta per noi che andrà a fare da ponte al letto abbiamo deciso di fare questo più che altro per avere anche degli spazi scaffale per tutti quelli che sono i manga, i libri per i quali se no non avremmo trovato posto in casa per come l'abbiamo realizzata abbiamo quindi tutto lo spazio anche per mettere i nostri vestiti ma non solo anche tutto quello che poi ci rappresenta che fa parte un po' del mondo nerd non mancherà qui e non mancherà qui anche perché vi faccio vedere un'altra cosa qui sono esattamente nell'angolo opposto e qui dietro di me ci sarà poi una postazione o meglio le nostre postazioni da lavoro qui in casa e perché abbiamo scelto di fare questo? beh semplicemente perché giù c'è lo studio vogliamo che sia separato dalla vita di tutti i giorni e vogliamo quindi creare questa distinzione tra lavoro e vita ecco così per farla in parole semplici quindi giù registreremo potremmo anche magari editare se abbiamo bisogno di editare video un po' più complessi mentre qui potremmo magari giocare la sera oppure fare altri piccoli lavori stando anche con i nostri amici pelosetti che giù da basso nel nostro nuovo studio non avranno accesso quindi non so se mi sono spiegato ma diciamo che è giusto dividere le cose per far sì che il lavoro non distrugga la vita privata quindi diciamo che per il gioco e relax avremo la camera la cucina col soggiorno e giù in cantina dove c'è il nostro studio un po' di punti diversi dove poter stare insieme e goderci un po' la vita e ovviamente lavorare e sono tornato qui dove è iniziato questo video anche per dirvi un po' di cose siamo felici anche di farvi vedere questo nostro lato la vita insomma che stiamo vivendo in questo momento portandovi questi contenuti che vogliono essere un po' anche modo di darvi magari qualche consiglio se volete fare la stessa cosa oppure semplicemente per farvi conoscere le persone dietro a quelli che sono i classici video magari film troppo professionali che creano un po' di distacco quindi ci fa piacere ogni tanto essere qui in video con qualcosa di un po' più concreto un po' per tutti vogliamo sapere anche cosa ne pensate un po' delle scelte che abbiamo fatto se vi sono piaciute se trovate comunque il tutto abbastanza in linea con il vostro gusto se voi avreste fatto completamente in maniera diversa insomma ci sono tante possibilità il nostro gusto è un pochino sul minimalista per quanto riguarda la casa quindi sappiamo che non è per tutti ma spero che questo percorso questo home tour in costruzione vi sia piaciuto ma ora dobbiamo assolutamente tornare a lavorare perché questi lavori non si pagano da soli assolutamente no anzi magari fosse così quindi qualora il video vi fosse piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto ragazzi